La Toscana si mobilita e accelera sull'accoglienza ai profughi ucraini. Le strutture ricettive della regione potranno garantire una prima accoglienza ai profughi che risulteranno in attesa di sistemazione. E' questo il senso della convenzione approvata dalla regione toscana che è stata sottoscritta da ANCI, UPI e da tutte le associazioni di categoria degli albergatori. Le strutture che daranno la propria disponibilità potranno così ospitare i profughi a cui una volta arrivati in Toscana non sarà ancora stato possibile offrire una sistemazione più stabile. Sarà quindi una destinazione temporanea prima dell'attivazione di percorsi di più lungo periodo. Del resto ha spiegato il presidente Gianni che nel pomeriggio ha effettuato con il sindaco di Firenze Dario Nardella un nuovo sopralluogo al punto di accoglienza alla Mercafir. Gli arrivi sono insensibili a aumento. Sì, stanno aumentando. Questa volta in modo notevole gli arrivi. Vi ricordate che due giorni fa io vi avevo parlato di 2.500? Stamani insieme all'assessore Monni nel presiedere il tavolo che ogni mattina alle 9 facciamo ci siamo resi conto dal quadro che ci hanno offerto i prefetti, i sindaci, rappresentanti dell'organizzazione di volontariato che in questo momento in Toscana già viviamo una presenza di 3.700 profughi. 3.700 profughi che per gran parte sono ancora nelle famiglie. Ma vi ricordavate all'inizio erano il 90% delle famiglie, il 10% in casse e nei nostri alberghi di prima accoglienza. Ora la percentuale incomincia ad essere quella che almeno il 30% sono nei casse e nei centri di prima accoglienza. Quindi sempre più ci rendiamo conto quanto il lavoro che dobbiamo fare è un lavoro importante di recepire quelle che sono le disponibilità e stamani partiamo dagli alberghi. Questa emergenza come abbiamo detto più volte è molto anomala perché ahimè è impossibile prevedere la quantità delle persone che arrivano e quando arrivano. Quindi è stato necessario strutturare un'accoglienza molto flessibile e quindi abbiamo chiamato all'appello e a raccolta tutte le forze che lavorano, che operano e che si impegnano su questa regione.